cari amici cari amiche eccoci qui allora cercherò di rispondere ad alcune domande sperando che i disturbatori non vengono a disturbare le nostre attività di studio cioè volete reclamare su di me insultarmi perché ho creato le cripto monete fattolo fattolo liberamente in quei gruppi che io ho creato appunto per essere criticato però per favore non disturbate gli studenti qui ci sono delle persone che studiano ok che esaminano argomenti con molta serietà vanno ad informarsi da altre parti si informano su libri testi articoli e su tutte le fonte delle fonti di informazioni possibili vanno li si informano verificano le cose che dico io studiano e dopo che hanno studiato riflettono parlano discutono ok ci sono persone che stanno studiando ok se vede degli argomenti argomentate se volete semplicemente dire che o alludere che io ho dei progetti di non lo so tipo di progetti pensate che io possa avere sì avevo dei progetti insomma nell'arco di tutta la mia vita qualcosina avrei fatto voi che ne dite in tutti in tutti questi anni sono sempre stato uno che dà non uno che prende allora torniamo al discorso delle delle domande a proposito ma vi faccio una domanda ve la faccio io questa domanda poi magari voi rispondetemi con gli audio dove dove io vi chiedo di rispondere alle mie domande vi faccio questa domanda se voi foste parte di questi elohim e non potendo farmi fuori e non potendo diciamo neanche impedire io divulghi queste cose come fareste per intralciare il più possibile la mia divulgazione è una bella domanda vero no perché in questa vostra risposta probabilmente c'è anche la spiegazione del perché c'è tanta gente che rompe le scatole a chi studia questi argomenti con la scusa che mi deve criticare perché io qua io la bande che non mi sono mai approfittato di nulla in vita mia ok allora andiamo alle domande delle persone serie che vogliono capire e che vogliono studiare d'accordo io comincerei con una domanda di un mio carissimo amico realmente una persona straordinaria che ha capito molto del superismo a proposito per semplificare per evitare critiche inutili non chiamatemi maestro non chiamatemi professore per lo meno nei video negli audio chiamatemi maurizio basta e poi un'altra cosa per non sembrare un gruppo di fanatici perché non lo siamo assolutamente non chiamiamoci gemellini anche o gemelli o gemellini anche negli audio che io metto nei video perché chi non ci conosce gli vedete fuori che vuol dire che è sta roba chi so questi prendono e spengono subito prima di cominciare a capire capito gemelli è come dire fratelli però con un con un laccio molto più intimo di empatia siamo molto più empatici tra di noi a volte capiranno dei fratelli e delle sorelle che non so poco si empatici come noi ci amiamo veramente molto e siamo consapevoli della nostra vera natura cosmica ci chiamiamo gemelli ma questo è un termine diciamo un pochino spirituale un pochino che riguarda la spiritualità se vogliamo anche la nostra religione che comunque una strategia non è una religione perché io odio le religioni è una strategia per uscire da tutte le religioni adesso non mi voglio ripetere però è meglio evitare di chiamarci nei nostri audio che poi vanno in onda gemelli gemellini se proprio vogliamo chiamarci qualcosa chiamiamoci amici o allora chiamiamoci superisti superisti cari superisti noi siamo superisti superista è un'espressione molto laica che che non ha nulla a che vedere con la religione così come il nostro studio non ha nulla a che vedere con la religione la religione è solo una strategia ve l'ho detto per poter ripararci da certe cosette vabbè adesso andiamo al sodo andiamo alle vostre domande grazie per le bellissime domande cominciamo a sentirne qualcuno ciao maurizio vediamo se riesco a proporti in via definitiva questo mio ragionamento in modo tale che magari tu possa riuscire a rispondere dunque tu hai parlato spesso della trinità padre figlio e spirito santo che è un concetto universale per quanto riguarda il cristianesimo in particolare per la chiesa cattolica però tu sei riuscito a spiegarlo anche per quanto riguarda il superceo non starò qui a riassumere quello che tu hai detto più volte però io riflettendoci ho pensato questo l'universo come padre a me torna e non torna ti spiego perché perché l'universo è un contenitore e pur essendo un soggetto in movimento esso non è un soggetto senziente ossia non è capace di intendere di volere risponde alle leggi astrofisiche precise ma non può decidere se andare a destra andare a sinistra andare di sopra andare di sotto tutto quello che in lui avviene è casuale ok tutto ciò che in lui avviene naturalmente non quello che poi provocano gli antichissimi o altri esseri senzienti tutto ciò che in lui avviene naturalmente è puramente casuale anche la nascita della vita è casuale l'universo non decide la nascita della vita l'universo la comporta ok per abbinamenti casuali di molecole eccetera eccetera allora io avevo pensato un'altra cosa riguardante appunto la trinità cioè i vari livelli di coscienza ossia il surga al secondo livello cioè si addormenta sogna il suo avatar nel mondo biologico virtuale ed è il surga al terzo livello di coscienza quando l'avatar passa oltre torna nel secondo stato di coscienza dopo essere stato naturalmente educato e tutto ottiene il suo corpo e entra a far parte del soruna allora tenendo conto di questi vari stati di coscienza e stadi di coscienza si potrebbe dire il surga nel secondo stato o stadio di coscienza è il padre che sogna il figlio cioè lavata del terzo stato di coscienza il quale a sua volta torna nel mondo biologico reale nell'universo biologico reale e si fonde con il sorun che è lo spirito santo in questo caso uno e trino ecco in questo caso io vedrei l'uno e trino perché surga padre surga figlio surga nel sorun spirito santo io questo lo vedo mentre il vedo un po più macchinoso considerare l'universo come padre che genera poi se stesso come figlio e forzando lo spirito santo non lo so sento delle forzature perché appunto ti dico vedo l'universo come un essere non senziente mentre nel nell'altra ipotesi in quella che ho fatto io c'è c'è coscienza c'è coscienza il surga è cosciente di immergersi nel secondo stato di coscienza è cosciente di quello che succederà cioè di generare un avatar quindi di incarnarsi un avatar ed è cosciente che questo avatar tornerà a lui e si immergerà nel sorun quindi nell'unico respiro nel respiro unico nello spirito unico dell'universo allora a questo punto io lo vedo dimmi tu io forse sto facendo voli pindarici non lo so dimmi tu cosa ne pensi ti abbraccio forte un bacione ciao allora questa riflessione del nostro carissimo amico tom è una riflessione bellissima perché veramente una riflessione profonda di un autentico studioso che si è dato il disturbo di prendere questa teoria e di conoscerla profondamente il suo pensiero è molto interessante molto bello io cercherò di rispondere alla domanda dicendo questo sì noi quando siamo in questa condizione di avatar come giustamente ha detto tom che sarebbe una realtà virtuale dove noi viviamo il nostro personaggio virtuale cioè io adesso sto vivendo il personaggio di maurizio poi c'è chi vive il personaggio di mia moglie c'è ognuno vive un personaggio c'è chi vive la farfallina c'è chi vive il cagnolino c'è chi vive il gattino c'è chi vive ogni forma di vita però chiaramente è un sogno fatto da un tuo fatto da qualcuno diciamo sogno è un momento di immersione virtuale infatti il discorso di avatar e film avatar e non solo il film avatar però questo questo collegamento tra la persona che dorme sogna di essere qualcosa qualcuno un animale una pianta è molto bello molto calzante quindi chi è il papà di questa persona qui è il surga che sogna quindi sì c'è una paternità nel surga che sogna è un po come un bambino che sogna di essere un gabbiano no va a dormire sogna che un gabbiano vuole sulla scogliera si tuffa pesce nell'acqua ok poi sono alla sveglia mamma mamma ho sognato che volavo ho sognato di essere un gabbiano perfetto chi era il papà di questo gabbiano bambino che sognava possiamo vederlo in questa maniera è interessante perché credo che la proposta di tom spero che mi correga se sbaglio è un po questa e quindi questa trinità io ho usato il concetto di trinità perché intendevo dire questo le religioni hanno avuto delle ottime intuizioni le hanno espresse a favoletta le hanno espresse malamente e racchiudono alcuni concetti molto belli e io quindi stavo dicendo guardate che concetto di di resurrezione e il concetto di trinità hanno un senso se proprio volessimo capire che che nessuno c'è tra questo linguaggio uno scientifico e l'altro mistico l'altro religioso c'è un senso concordo anche quando tom dice io non vedo l'universo come un essere senziente sì effettivamente un essere senziente è qualcuno che ha coscienza di sé però io ho fatto un esempio dicendo che quando quando nasce un universo c'è un big bang chiaramente questo big bang all'inizio uno si potrebbe dire che pure energia in realtà io dico che è pure elasticità perché lì in quel momento c'è uno spazio elastico che si contrae e rimbalza su se stesso producendo quello che conosciamo come big bang in una forte esplosione di micro vortici e quindi di energie tali da propor da produrre tutte le particelle subatomiche quindi poi tutti gli atomi e tutto quello che conosciamo nel nostro universo quindi non c'è una sensienza in quel momento non c'è la sensienza viene dopo quando cominciano ad esistere delle combinazioni molecolari sempre più complesse a un certo momento queste molecole riescono ad essere sensibili a certi stimoli perché è così che interagiscono cioè una molecola si aggancia un'altra diciamo in forme di molecole sempre più complesse a un certo momento si genera una cellulina che ha fame a se c'è la necessità e allora si avvicina ad altre sostanze o si allontana in questo brodo primordiale che sarebbe l'oceano l'acqua perché lì che nasce tutto il movimento della vita perché non potendo camminare queste molecole si muovono casualmente si urtano si incontrano finché poi si aggregano insomma un processo molto complesso è una specie di lotteria che avviene nel corso di miliardi di anni a un certo momento sorge la vita sorge la vita che comincia avere una sensibilità perché cominciano a sopravvivere quelli che hanno una sensibilità capito quelli che sentono l'odore di quel qualcosa che di cui hanno bisogno si avvicinano in quella direzione o addirittura quelli che vedono qualcosa che possa essere utile alla loro alimentazione e quindi forme di vita sempre più complesse quindi la sensienza viene in questo universo in dei punti specifici in dei punti sparsi in tutto l'universo l'universo inteso come un feto che si autocostruisce e passa dalla non sensienza non sensibilità non coscienza in livelli di coscienza sempre più più grandi sparsi in tutto l'universo in ogni forma di vita a quel punto l'universo evolve 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 queste forme di vita raggiungono il massimo livello possibile in questo massimo livello possibile nel mio verso diventano antichissimi all'ultimo livello di evoluzione poi trasferendosi il nuovo universo che loro hanno gestito nella sua creazione quindi sono i creatori di quest'altro universo dove si trasferiscono con tutti il loro spirito individuale che sta tutto impacchettato in un grande spirito che è su run quindi si trasferiscono quindi è quella la trasferenza dello spirito santo che passa dal padre al figlio l'universo padre e l'universo è il bioverso e ogni volta si crea un creoverso e questo spirito santo santo perché sente perché ha sofferto ed è però è perfetto adesso è perfetto si trasferisce da un universo all'altro un po in quel senso che io dicevo quindi quando si tratta anche di risurrezione si parla di risurrezione del corpo ma non di una persona di un altro che qui si parla proprio di un universo intero che è come un fedo che nasce il mio verso è un fedo che nasce diventa diventa dio di apostrofo io diventa sorun e come fatto di tante cellule diciamo così ogni surga meraviglioso divino dio gemelli questi sono i gemelli cosmici non muoiono perché possono essere trasferiti nel nuovo corpo di questo nuovo universo che si crea con atomi nuovi che vengono ricostruiti rimontati con strutture già perfettissime con corpi di un corpo di surga perfettissimi quindi ecco lì il discorso di dio padre dio figlio e dello spirito santo perché si trasferisce praticamente c'è una resurrezione cioè dio che risorge fisicamente non è mai morto perché il suo spirito è sempre esistito ma esistito protetto e trasportato nell'universo nuovo concetto diciamo non tanto quotidiano ma è praticamente un concetto importantissimo perché per chi vuole comprendere il senso dell'esistenza e per chi vuole comprendere che la maggior parte del tempo noi viviamo nella perfezione che potrebbe essere comparata al paradiso no capito se noi siamo bene se noi siamo concetti scientifici e se noi siamo concetti religiosi spirituali allora non è che cristianesimo contiene tutti i concetti giusti intendiamoci ne contiene qualcuno al cristianesimo ne contiene qualcuno il buddismo ne contiene qualcuno altre religioni però diciamo queste grandi intuizioni possono essere tutte quante convergenti viste come convergenti in questa spiegazione scientifica razionale che dico io certo non sono giuste in tutti i punti queste religioni attenzione ma se proprio volessimo intendere che cos'è la santissima trinità e se proprio volessimo intendere cos'è la resurrezione in questo caso del corpo perché il corpo dell'universo va in evanescenza poi se ne crea un altro questa è una reazione una surrezione risurrezione fisica e lì chi entra tutto lo spirito in questo nuovo universo già in forma di surga perfettissimi quindi è un è un universo sensiente nel senso sì ci sono tutte le stelle lo spazio le galassie tu quello che vuoi ma non è un universo che non ha raggiunto la sensienza è un universo che ha un fisico immenso ha un corpo immenso un corpo più che galattico universale un nuovo universo è in questo senso a partire dal feto che dal feto che si auto costruisce e nella prima auto costruzione ovviamente non è nella prima fase di auto costruzione non è cosciente sto feto non è senziente lo stesso vale per l'universo era un pochino questo il concetto che volevo esprimere non so se sono riuscito a rispondere a una domanda così bella e così profonda come quella di tom che è uno degli studiosi superisti più impegnati più bravi che che noi abbiamo complimenti per la profondità di questa di questa domanda ok allora andiamo avanti sentiamo le altre domande buonasera maurizio sono eufrasia le voglio chiedere anzi fare una domanda nonostante questi elohim che sono stati diciamo mai individuati da noi umani ed hanno anche firmato un trattato con gli antichissimi vede che si sono arrabbiati di più contro l'umanità continuano a fare del male io mi domandavo ma gli antichissimi possono permettere che queste distruggono tutta l'umanità perché il male sta avanzando giorno per giorno oppure questi stanno facendo di tutto per mettere paura a noi affinché magari noi molliamo la presa ecco io mi domandavo questo io spero che gli antichissimi possano intervenire perché l'umanità non deve essere distrutta e io me lo auguro con tutto il cuore buona serata a tutti buonasera maurizio un abbraccio a te la tua signora canzi questa è una bellissima domanda è una domanda molto importante e io vorrei iniziare a rispondere partendo da una premessa quando gli antichissimi hanno aiutato i solariani c'è il sistema solare c'erano tre pianeti con vita hanno reso umani gli abitanti i migliori e abitanti più evoluti di ognuno di questi tre pianeti ci hanno resi umani allo stesso tempo questo è avvenuto circa 200 mila anni fa noi eravamo i solariani siamo ancora i solariani siamo visti come un unico un unico popolo e come dire sulla terra ci sono vari continenti ci sono vari popoli e varie razze diciamo così bianchi neri gialli rossi come volete chiamarli noi gli africani europei varie razze per dire chiamiamo le razze anche se non sono varie razze l'unica razza l'unica specie la specie umana e e uno dice sono terrestri e li tratta come terrestri non è che gli antichissimi vengono qui a dire gli europei non dovete andare in sud america schiavizzare i poveri indio sudamericano non è che gli antichissimi fanno questo gli antichissimi ci hanno resi umani loro hanno 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 compiuto il compito che hanno loro rendere umani quelle specie che stanno sulla soglia per diventare umane gli antichissimi per chi non lo sapesse sono la specie più evoluta di tutto l'universo con più di 9 miliardi di anni di evoluzione alle spalle quindi hanno tecnologie fantastiche hanno un senso etico morale fantastico ma allo stesso tempo una volta che ci hanno resi umani e poi stanno in gestirci non è che loro sono i carabinieri dell'universo poi loro compiono un'altra parte di questa di questo loro fantastico compito che è il save grazie al quale noi non moriamo capito cioè dopo questa vita noi non moriamo perché ci sono gli antichissimi perché sennò il nostro spirito che fine farebbe nel nulla quindi loro fanno il loro compito ma ci manca pure che diventano i carabinieri dell'universo capito l'antichissimo no lei sta attraversando con il rosso no lei fermi con quella mitragliatrice noi dobbiamo evolvere noi a noi non ci manca niente noi siamo intelligenti tanto quanto gli abitanti degli altri due pianeti ok sì questi ci stanno facendo delle prepotenze tutti i colori ma chi ce l'impedisce a noi di reagire chi ce l'impedisce a noi di capire ma non stiamo parlando io non vi sto spiegando tutto io ho spiegato come si fa il talad invece le persone spesso ma le persone soluzioni che che spenge proprio a monte il problema che si mettono lì a parlare di cose momentanee dimenticando che la nostra storia con questi qui dura 12 mila e 900 anni e quante ce ne hanno fatte e quante ce ne faranno ancora se noi non cerchiamo di capire queste cose che io vi sto dicendo e attenzione che le cose che vi sto dicendo io no no non per vantarmi perché a me non me ne frega niente non sono nessuno già ve l'ho detto ma sono cose che non sono mai state spiegate all'umanità come dicevo chi ce ne impedisce a noi di vincere questa sfida chi ce ne impedisce io vi sto dicendo proprio le soluzioni vi ho descritto tutta la situazione e come vincere molto molto facilmente senza neanche fare un grande sforzo basta capire quello che dico e basta metterlo in pratica c'è proprio la soluzione maestra su un vassoio d'argento o vogliamo dimostrare agli elohim che hanno ragione loro che noi siamo sub umani che noi non siamo umani che non siamo in grado di non dico di capire ma ma neanche di comunicare neanche di e raga e dai ce la dobbiamo merita sta vittoria e possiamo vincere abbiamo la carta vincente io non lo so abbiamo cioè abbiamo avete la soluzione vincente e invece di applicarla ma bisogna divulgare a tutta forza queste cose ovviamente nel modo giusto quindi niente di chiamarci gemellini gemelli se vi fa piacere chiamatevi superisti la nostra amica superista il nostro amico superista poi all'interno del discorso spirituale si si può chiamare nell'interno della nostra religione possiamo chiamarci tranquillamente gemelli capito se noi sembriamo una setta di pazzi che e noi non siamo una setta di pazzi noi siamo persone che si sono dati il disturbo di ragionare con grande intelligenza e di capire chi c'è dietro il trucco dietro questi giochi di prestigio perché stare lì a piangere sul problema sanitario sieri tutto quasi ho capito è grave però ragazzi sono 12.900 anni che ci trattano in questa maniera e vi siete accorti e continueranno a trattarci così a meno che non capite queste cose che sto cercando disperatamente di farvi capire e sto cercando disperatamente di dirvi per favore per cortesia per pietà mettiamola in pratica ok allora vediamo le altre domande sono sempre ornella c'è alessandra in un altro gruppo che mi fa notare che gli elohim possono farci mostrare dei delle apparizioni come e che ne so io angelico oppure oppure i demoni eccetera eccetera anche questo per non farci continuare nel nostro nella nostra retta via farci paura in questo modo domanda ma se avendo noi il talad credendo a questa arma che ci hanno dato gli antichissimi non possono farci questo male è così certo che così è talmente cioè allora tu non devi non c'è bisogno neanche che tu ci credi nel talad se tu all'alieno gli dici non voglio che tu interferisca finito pure se non ci credi io non capisco perché vi fate sto problema non c'è neanche bisogno che ci credi tu all'alieno gli dici non voglio che tu faccia questo è il nostro libero arbitrio manifestato e l'alieno non può far finta che 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 non t'ha sentito è obbligatissimo al mille per cento ad accettare la tua volontà l'ha fatto gli ave con mosè se mosè gli avesse detto gli avesse sarebbe andato via io non so come devo dire ma quali sono i dubbi non c'è manco bisogno che tu ci credi allora se tu devi mettere un chiodo in una tavoletta tu prendi il martello gli dai una martellata sul chiodo e non c'è bisogno che tu ci credi basta che gli ha dai e non lo so io so che che ornello ogni tanto mi fa delle domande a scopo didattico come diremo io faccio sta domanda così risponde al dubbio a tutti io ti ringrazio ornella ma mi sembra molto molto basico quello che mi stai chiedendo e non si tratta di crederci si tratta di farlo ok adesso andiamo avanti allora maurizio è una mia curiosità se gli antichissimi hanno fatto firmare il trattato a questi Elohim perché già li conoscevano che questi avrebbe fatto del male all'umanità e allora perché si continua così io spero che siano loro gli antichissimi a fermare tutto perché noi con tutta la nostra buona volontà con il talent che noi cerchiamo di difenderci e io spero con tutto il cuore che siano loro a fermare tutto perché sono sicuro che li conosceva che razza di essere sono questi perciò io spero con tutto il cuore che tutto ciò finisca al più presto perché c'è troppo male e spero che gli antichissimi se mi sentono ciò che io sto dicendo che posso intervenire perché veramente non è possibile c'è troppo male grazie maurizio buona serata si frasi c'è troppo male ma come stavo dicendo anche prima e non è che gli antichissimi sono i carabinieri dell'universo come posso dirti noi stiamo qui per per imparare la nostra lezione non siamo mica scemi ovviamente vogliamo vogliamo diciamo beh siamo scemi siamo scemi non siamo capaci di intendere di volere non abbiamo capito niente ci avete la soluzione proprio come votevo dire che ci avete la soluzione ve l'ho spiegata in tutti i modi se poi non riusciamo a metterli in pratica una cosa così semplice e a parlare agli altri di una cosa così semplice allora veramente siamo scemi sul serio allora c'è una ragione di elohim che siamo poco più che non che non siamo umani come volevo dire sì siamo distratti qualunque cosa ci distrae oggi il siero ieri l'elezione politica l'altro ieri l'altro politico che ha fatto lo scemo ma sono 12.900 anni che ci hanno massacrato voi non non c'eravate non vi ricordate che ne sapete come sono state le guerre che ne sapete come sono state le guerre a colpi di spada a colpi di lancia l'acchi di sangue ma voi non vi rendete conto che cosa è stato il passato non vi rendete conto che cosa è stato il passato noi dobbiamo fare il nostro compito come il bambino che c'ha un compito allora arriva l'antichissimo mamma e dice non ti preoccupato faccio io il compito ma non è così che funziona siamo noi che dobbiamo fare sta cosa chi lo può fare al posto nostro nessuno dobbiamo fare noi e c'è poco da fare capire e mette in pratica capire e mette in pratica capito non vi fate distraire come la cimietta che vede una nocciolina che gira non ci capisce più niente voi vi distraite con tutti questi problemi che esistono veri per carità ma qui stiamo avanti a sieri a licenziamenti per i sieri tutte queste cose ho capito ma volete una soluzione o no ce sta vuoi detta basta metterla in pratica e che ce l'ho ok allora non ci faccio e frate per l'amor di dio io sto cercando io adoro frasi a persona meravigliosa capito e non è la prima volta che mi fanno questo questo tipo di domande ma le risposte sono queste che risposte vi devo dire mettiamoci tutti quanti in ginocchio a pregare gli antichissimi che vengono qui e risolve il problema ma raga il problema lo dovete risolvere voi e io vi ho detto pure come se fa senza violenza in una maniera non violenza facile senza fatica ma che volete di più allora caro maurizio io ho cercato di studiare ma questa cosa non l'ho capita allora il creoverso giusto anche loro poi hanno entropia cioè anche nel creoverso poi finirà l'energia dopo miliardi e miliardi e miliardi di anni e si inizierà tutto da capo con un altro bioverso e così via così è oppure io ho capito male ecco questa è una cosa che io ho studiato ma non riesco a capirla tutto qua grazie bravissimo giusta osservazione allora un universo pensato l'universo come se fosse una macchinetta con una batteria quando definisce la batteria ma nevano in scienza moreno tutti a meno che si crea un altro universo e si trasferisce il nostro spirito le nostre identità le nostre storie le nostre personalità quello che siamo nell'altro universo e lì torniamo a essere viventi al massimo livello possibile stiamo parlando dei surga poi pure in quell'altro universo che comunque è un'altra macchina che esiste finché c'è l'energia in certo momento finisce energia sparisce tutto e quindi bisogna avere un altro universo dove trasferirsi e questo è un ciclo eterno una specie di pulsazione cosmica capito una specie di eterno respiro capito e quindi e per questo dico che molte tradizioni riflettono queste queste grandi dinamiche cosmiche no lo yoga la meditazione la respirazione tutte queste cose che perché sono grandi intuizioni che però non sono chiare alle persone perché innanzitutto i maestri non è detto che l'abbiano capite fino in fondo e non è detto che l'abbiano capite in chiave scientifica come ve le sto a spiegare adesso e comunque quando mi hanno spiegato a favoletta agli altri gli altri che cosa gli è rimasta favoletta e quindi hanno capito la favoletta ma non ha capito non hanno capito il senso della favoletta bellissime queste domande grazie grazie veramente a tutti mi ha dato occasione di parlare di cose molto importanti buongiorno io mi chiamo marta e da pochissimo che ho visto questo canale e anche il suo su youtube quindi ancora devo fare un po mente locale i pleiadiani la diciamo la federazione galattica sono tutti in mala fede perché seguo altri video quindi questa federazione galattica ci aiuterà e insomma risolverà un po le sorti un attimo solo che non si sente niente aspetta un attimo scusa vediamo se riesca a risolvere questo problema perché non si sente niente buongiorno io mi chiamo marta e da pochissimo che ho visto questo canale e anche il suo su youtube quindi ancora devo fare un po mente locale i pleiadiani la diciamo la federazione galattica sono tutti in mala fede perché seguo altri video in cui questa federazione galattica ci aiuterà e insomma risolverà un po le sorti del nostro pianeta implementando il qfs sistemando tutto secondo lei lo fanno a fin di bene e disinteressato oppure vogliono anche loro come dice malanga la nostra anima e basta grazie e infinite allora grazie per questa domanda mi fa piacere che ci segue benvenuta e sì praticamente sta federazione galattica mannaggia però questi da federazione galattica mi sembrano tanto i politici italiani c'è qualcosa che non funziona per il semplice fatto che allora a parte gli scherzi ma quale federazione galattica ma di che stiamo a parlare io l'ho spiegato gli alieni che sono venuti qui non è che sono venuti da tutte le parti della galassia anche perché non so se voglio avere idea delle distanze che esistono tra una stella e l'altra ma che federazione galattica avete visto troppo star trek e non avete capito la realtà è la realtà che gli alieni che sono venuti qui sono venuti proprio da vicino 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 vicini di casa capito erano tre pianeti uno vicino all'altro proprio qui c'è il sole e poi tre pianeti uno vicino all'altro questi sono venuti da questi pianeti qua dai due pianeti vicino al nostro non è che sono venuti dall'altra stella capito ma prendete conto e per questo dico bisognerebbe sapere conoscere meglio l'universo dove viviamo capire le distanze tra una stella e l'altra capito già sono distanti le stelle poi dovresti trovare una stella dove c'è vita intelligente a livello nostro che poi vengono qua qui stanno a livello nostro perché sono arrivati gli antichissimi li hanno resi umani a tutte e tre intorno al sistema solare e noi siamo gli solariani noi abbiamo avuto questa fortuna o sfortuna che sia insomma di essere stati portati a livello umano dico sfortuna perché questi qui che stavano vicino a noi avevano un po di tecnologia ma non avevano senso etico morale sono venuti qui hanno fatto come hanno fatto gli europei che avevano un po più di tecnologia ci avevano le navi per attraversare un mare, un oceano ci avevano il fucile, la lancia, armature corazzate di tirare la freccia, la freccia schizza sull'armatura perché quelle corazzate è un pochetto più di tecnologia qui e guardate che cosa hanno fatto agli africani, ai sudamericani, ai centroamericani che gli hanno fatto, hanno sterminato, gli hanno saccheggiato, gli hanno rubato tutto, proprio l'hanno massacrata gli hanno ammazzati a tutti, quindi ma quale federazione galattica? ma di che stiamo a parlare? ma non esiste nessuna federazione galattica per questo io dico bisogna studiare le cose che ho detto io adesso non posso stare a spiegare in una risposta singola tutto quello che ho spiegato in vari video spiegando come mai non esiste veramente questa federazione galattica questi sono dei voli pindarici di gente fantasiosa che vuole lanciare il messaggio sia dei buoni sia dei bravi ce li hanno detti i pleiadiani, ce li hanno detti gli oroniani ce li hanno detti i feliniani ce li hanno detti i feliniani, capito? questi che vivono di fuffa io purtroppo sono ricercatore serio queste sciocchezze non fanno parte delle materie che spiego io se voglio vedere la fantascienza, ma guardo Star Trek sì, però la vita non è fantascienza la realtà non è fantascienza così come non era fantascienza quando in Sud America io racconto sempre questa cosa in modo di barzelletta un sudamericanino all'altro sudamericano l'anno gli diceva hanno detto che hanno visto una nave grossa con le vele da lontano ma tu ci credi ma tu ci credi agli europei? tipo, ma tu ci credi agli alieni? agli extraterrestri? no, tu sei scemo ma tu credi a queste favole che esistono gli europei? mamma fammi ride poi dopo quando sono arrivati gli europei e lì c'era da piangere e infatti hanno pianto tanto, lacrime e stangue gli hanno massacrati questi sudamericani, gli europei gli europei agli sudamericani gli hanno massacrati, hanno massacrati i centroamericani gli hanno rubato tutto, sterminato eccetera eccetera io parlo di realtà ok? io lo dico con grande affetto non è una critica ma chi sa queste cose? se le persone non si avvicinano alle cose che spiego io io non è perché so vanitoso per carità ma queste cose le spiego solo io le spiego solo io le cose così chiare così razionali gli altri vanno fa colpo io ho avuto un incontro con una della federazione galattica che mi ha detto se sapeste che mi ha detto vabbè faccio un video e vi racconto che mi ha detto e quello si fa 10.000 visualizzazioni e io che vi dico la verità? 300 400 250 e quello che stavo dicendo prima a Eufrasia la colpa non è degli antichissimi e non è neanche degli Elohim che stanno facendo i fatti loro la colpa è nostra che non siamo capaci di spiegare agli altri quello che sta succedendo e non siamo manco capaci di fare click e di senti un po' che sta di Maurizio manco quello manco click senti un po' che sta di Maurizio manco quello quindi ci meritiamo la 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 situazione in cui ci troviamo ecco basicamente questo mi dispiace dirvelo così ma ho spiegato tutto la situazione ve l'ho detta avete la soluzione in un vassoio d'argento ve l'ho spiegato basta che che utilizzate quello che vi ho insegnato io il Talat il no agli Elohim non andare in chiesa perché se va in chiesa gli dai il consenso questo vale per tutte le religioni vi ho spiegato tutto ma mo che ve devo fare la sintesi di tutto quello che vi ho spiegato noi abbiamo il libero arbitrio e con questo vinciamo dovete solo usarlo dovete capire come si usa ve l'ho spiegato tantissime volte spiegatevelo tra di voi ok? buonasera a tutti i gemellini e a Maurizio naturalmente vorrei chiedere a Maurizio fare una domanda sul genoma in quanto da sempre ci siamo chiesti com'è possibile sviluppare un RH negativo il sangue di tanti genitori sono RH positivo arrivano dei bambini RH negativo com'è possibile questo? dato che è un argomento abbastanza in voga online si dice che il RH negativo sia alieno ma dato che ci siamo messi a giocare un po' con i marzianotti o marzianacci come li chiami tu ci siamo messi a giocare nel senso che sicuramente in passato qualcuno si sarà mischiato a loro e quindi mi chiedevo se era possibile non avere dei tratti somatici marzianacci ma preservare il suo RH negativo e quindi tramandarlo magari saltando delle generazioni eccetera grazie per il chiarimento e arrivederci a tutti ma allora questa è una bella domanda che molti ricercatori cercano di spiegare chi in un modo chi in un altro vabbè adesso non è un punto cruciale della mia spiegazione chiarire questo punto che chiaramente è una curiosità per molti non è un punto cruciale che si chiarisca sta cosa però sì ci sono stati degli incroci e praticamente sembrerebbe che poi sono tutte cose abbastanza inaperto perché non è che io gli ho fatto analisi del sangue a questi capito però sembrerebbe che sono i nordici che hanno trasmesso il gene negativo che non c'è questo RH sembrerebbe dice però forse non ce l'avevano neanche gli Elohim eh sì forse non ce l'avevano neanche gli Elohim però il problema è che questo tipo di accoppiamenti creavano delle situazioni un po' strane l'accoppiamento tra Elohim e terrestri generava in genere dei giganti sembrerebbe così da quello che raccontano i testi antichi la Bibbia e tantissime altre cose l'importante non è sapere chi c'hanno all'RH che non c'hanno l'importante è sapere che questi sono venuti qui ci hanno fatto un mazzo così questo è importante da sapere è importante sapere come facciamo allevarseli dai piedi a questi a farli stabboni capito poi queste sono tutte curiosità che poi dice adesso confronto con quello che diceva Langa no però quell'altro ricercatore ma che ve frega ma pensiamo ai cose serie comunque sì è una domanda io posso dare quest'opinione qui che lo ha spiegato poi magari trovi l'altro ricercatore e dice no perché dai pleiadiani a me dei pleiadiani non me ne frega niente io vi sto soltanto raccontando siamo in un mare di guai siamo in un mare di guai pensiamo alle cose serie ok poi sì le domande si possono fare io infatti penso che ho risposto più o meno come la penso io in relazione a sto RH negativo uno comincia ah io ti scendo dagli alieni ah tu no però perché tu c'è quello così che cazzo vabbè ok ognuno si diverte come gli pare però insomma voglio dire pensiamo ai cose serie allora buona serata Maurizio e buona serata a tutti i gemellini allora io avevo fatto ultimamente delle domande su whatsapp siccome poi non ne hai fatto più video delle risposte e ora siamo tutti passati su telegram allora la mia domanda è allora noi sappiamo che che un surga dolmente e in questa vita dolmente e su di noi in questa vita come dire tra virgolette artificiale artificiale no però poi sappiamo che quando la notte sogniamo questi surga dolmente sognano che poi sogniamo loro però sogna loro cioè che poi sogniamo noi in pratica però sognano anche loro se non mi sbaglio allora sabato io dovrei chiedere una cortesia quando fa una domanda se tu fai domande così la gente non ci capisce niente mi spegne il video capito scrivete fatte un appuntino perché così sei più chiaro io te lo dico con grande affetto tu lo sai quanto te voglio bene se tu te la scrivi stai domandini la leggi e le persone riescono pure a capire che stai a dire facciamo vedere alle persone che ci seguono per la prima volta che siamo organizzati che siamo seri che facciamo cose fatte bene non c'è niente di male se uno si perde un pochino nella domanda però io mi ricordo un tempo che tu facevi delle belle domande precise perché mi avevi detto che te le scrivevi mi sembra venivano delle belle domande precise per favore torniamo a fare la cosa in questa maniera ti dispiace se me la rifai te la rispondo alla prossima va bene allora con questo io chiuderei il nostro video risposte per oggi vi ringrazio infinitamente scusate se sono sembrato un po' più secco del solito in genere sono molto tranquillo affettuoso paziente però tutti questi attacchi che vengono non so voglio dire io io ripeto ho fatto una domanda prima ho detto ma se voi foste foste se voi foste degli Elohim e state cercando di bloccare senza che mi potete far fuori ovviamente perché non è previsto da libero arbitrio che fate fuori un terrestre solo perché ha capito delle cose e che fate fuori un terrestre solo perché sta spiegando delle cose perché il nostro libero arbitrio significa anche parlare tra di noi senza avere nessuna ritorzione il nostro libero arbitrio è pure questo e questa è una legge inviolabile degli alieni inviolabile infatti io sono ancora vivo non so se mi spiego da quanti anni mi conoscete che dico queste cose mi hanno ammazzato? no mi hanno impedito di dirle? no non possono io ho fatto pure la religione in modo che le posso dire perché loro le religioni proprio le rispettano al massimo perché loro hanno fatto tutto impostato sulle religioni non possono rinnegare le religioni ci sono delle logiche dietro a tutto questo quindi quindi ragazzi io niente sono stanco di tutti questi attacchi se ovviamente gli Elohim ci dovessero ostacolare in qualche modo cercherebbero di confonderci fa entrare un sacco di gente che trova tutte le scemenze possibili e immaginabili io infatti ho detto io non raccolgo soldi io do i soldi non li raccolgo sono più di vent'anni che faccio così non faccio sesso cioè voglio vedere che difetto mi trovano questi qui voi mi hanno trovato il difetto che faccio le criptomonete ma dai in realtà pure se non so difetti ti fanno un gran tumulto ti stancano ti stressano alla fine la gente si offende via esce se non dice tanto quasi capisce niente è tutto un casino la buttano in cacciara io adesso gli ho fatto un gruppo dove voi se siete onesti se siete onesti mi volete fare la critica ma la fate nell'apposito gruppo nell'apposito gruppo io non censuro niente lascio tutto lì mi fate gli audio ve li pubblico pure sui video che sto facendo ve li pubblico così la critica che mi state a fare la sentiranno tutti se la fate per scritto o no come faccio a metà la critica per scritto e lì potete pure scriverle fate quello che vi pare ho creato un gruppo l'ho creato oggi ho perso mezza giornata a creare un gruppo telegram e un gruppo whatsapp così mi potete criticare mi potete di tutte le cattiverie che volete ma non ostacolate chi sta studiando ho fatto un gruppo apposta perché sennò dice ah vedi non ci fa neanche fare la critica no no fatela 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 ma ogni gruppo è un gruppo apposito c'è un gruppo per farmi le domande c'è un gruppo dove voi rispondete alle domande che vi faccio io ok poi ci sono vari gruppi tematici lo sapete meglio di me ecco il gruppo delle critiche è quello mi potete di di tutti i colori ok ma non disturbate chi sta studiando d'accordo ecco vediamo se con questa strategia riusciamo a affermare queste persone che o ce fa non ce so no perché uno fa finta no ma non avevo capito bene perché io ho fatto la domanda non mi è stato risposto allora per questo c'è basta basta tutte queste fesserie mi hanno stufato qui chi ragiona rimane nei gruppi tematici chi non ragiona se mi volete dire le cattiverie me le dite nel gruppo tematico critiche a Maurizio Fedeli critiche in audio lì mi potete dire tutte le cattiverie che volete e mi raccomando tutti dovete entrare lì perché se no che succede succede che vabbè io lo scrivo lì ma lì non c'è nessuno lo dico lì faccio l'audio lì ma lì non c'è nessuno no tutti per favore tutti tutti e dico tutti pure quelli che non vogliono fare nessuna critica entrate lì dentro per ascoltare le critiche perché su questa base quando la gente romperà le scatole sui gruppi seri dove bisogna studiare allora li possiamo buttare fuori senza che nessuno dica ah ma vedi non me l'ha fatto parlare mi hanno buttato fuori no io ti do uno spazio enorme proprio ti faccio il video sano dove tu puoi dire tutto quello che ti pare contro di me contro voi che volete fare le critiche volete dire quello che vi pare contro di me io senza cancellare niente io prendo il registro le faccio il video ecco queste sono le critiche che mi sono state fatte così tutti lo sanno lo sanno quelli che stanno nel gruppo telegram nel gruppo whatsapp e quelli che seguono su youtube ok rimaniamo così vi amo da sempre ci amiamo da sempre un po' di Grazie a tutti.